E no, la serie non è ancora finita, almeno ancora, per poco esattamente. C'è un episodio dopo l'episodio finale, perché ho scoperto qualcosa che ho dimenticato, ma solo dopo aver fatto l'episodio finale. Quindi questo qua sarà un post finale? Esattamente, il fottutissimo ponte. Cavolo, stavo per cadere anch'io stavolta, lo giuro. Ma perché dovete fare una roba per ogni ponte che c'è? Ricordate, non fidatevi mai dei ponti in a risolto, perché sono delle scale. E sprofonda le mani nel legno per scendere giù, così lo spacca, non è che scende. Ma vedi, che ne so, non mi ricordo più cosa avevo scoperto. Questa, sì. Però no, il piccoletto è ancora lì a disegnare. De preda. Ah, però ho disegno ficcato bene lì in fondo, eh. Muschio blu ghia. Ah, qua ci posso passare, ci posso passare. Aha. Eh no, no. Tac. Vedete che si è agitato in una maniera, manco gli avessi... Manco gli avessi spento la cica nell'occhio. Qua. Mi sento al berrico. Ah, che foto. Avete visto che culo che siamo capitati proprio sul... Sul ramo opposto. Fermo qui, te, eh. È andato. No. E tu, anche te. Dai. Però vedo che sono piuttosto vulnerabile al fuoco. Non so, vedo che si esitava. Quindi o è un cane che odia il fuoco. E vabbè, aspetta, 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 aspetta. Sono disorientato. Non mi ricordo più cosa dovevo fare. Cavolo. Vabbè, passo di qua di nuovo. A meno che non ci sia... Boh. Boh, io sto in agitazione. Anche se non sono sempre in agitazione. Dai, via, 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 via. Qua siamo sotto tiro. Quindi dico la fine... Cazzissimo. Ho preso una paura che... Che... Se saltasse giusto, magari. Stavolta però ho anche l'anello del gatto. Quindi se cado non mi faccio niente. No. Se cado non muoio. Sfracellato. È la terra. Fine. Ecco, tipo questo qua. Il cambiamento di... No, non svegliarti. Sì, sì, avrei si sa svegliato, ma... Non so. State in agitazione. State in agitazione. Qui c'è un vicolo cieco. Figli di putta. Non so. Non so dove andare. Non so dove andare. È un problema. È un problema a sto posto. Ah, è vero. C'è anche sto... Te... Dai, dai, dai. Fa qualcosa a quell'anello di merda. Ci provo con la falcia, allora. Bene, sì. Con l'anima di Freed ho tenuto questa qui. Guardate che figa. E soprattutto... Guardate che figata. Niente. Basta così. Volevo solo dirvelo. È bella come arma. E molto probabilmente la userò in... Sempre se c'è... Ho sentito che c'è un'arena, ma non so se c'è... Se è vero. L'abbiamo trovata l'arena, però non... Non quella che speravo. Ecco, avete visto? È già arrivato uno. A rompere le scatole. Di qua? Sì, di qua. Di qua. Di qua. Di qua. Giù. Mannaggia. Qua via. Via, 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 via. Eh, però... Eccolo lì. Non cadere giù. Bravo. Ta. 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 E ne ho mancato tre volte su due. Bracce. Ah, però ci arriva. Ci arrivano le sue frecce anche qui. E dove è sto qua? Sto bastardone. Guardate che ora lo vado a cercare. Sono poco motivato. Non so perché. Forse perché ho appena finito. Sì, sto coso qua è subito dopo. Subito dopo la serie ufficiale. Questo qua è un extra. Da dov'è? Ma che cazzo? Sì, questo qui è un extra. Quindi sono leggermente demotiva. Non so perché. Non so perché. Ho appena finito la serie. Sono abbastanza stanco. E quindi... Niente. Domani è venerdì. Sì, questo qua è... Questi episodi sono un po' in ritardo di un giorno. Quindi... Non metterti a fare. Bravo. Bravo. Cavoletto ma dov'è? 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 No c'era anche un'arma qui. Ma dove cavolo è? Non so. Spero. Spero di trovarla. Ti prego fa che... Madonna. Ho preso una parola quando vi sono avrei già lì. Eccola qui l'arma. Non... Bravo. Sciabola dei devoti. Che sarebbero i... I... De... Sì, i devoti del farro. Basta le fre... Sul po'. Beh. Meglio esploso che... Che... Spara! 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 Ti sfido! Ecco qui! Da! E mo' cado anch'io. Ah, per fortuna che avevo... Il... Come si chiama? Beh. Bello. 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 Bello l'equilibrio che toglie... Ma si può fare un backstab con la falce? Non so. No. Voglio farmi vedere... Fammelo far vedere. Che aspettano solo questo. Spero. Ah, giusto. Adesso mi fa l'urlo di guerra. Aspetta. Adesso fa una... Ma sei un pezzo di merda però. Ma neanche questo non mi vai fare. Vai. Boh. Vado con attacchi pesanti. Dato che... Non va al normale. Quello lì è disperato. Guardate lo lasci a destra così. Tutto triste. Oh. Era ora. Freccia. Freccia. Fem fortuna. Fermento grande. Ti tenete. Eccolo qui. E... Colpo pesante. Qua c'è anche un falo. Un falo se non sbaglio. Un falo. Eccolo qua. Tac. Non mi metto al falo se no respawna tutto. Comunque ecco qua la mossa che volevo farvi vedere. Questa. E dopo... Questo casino qui. Guardate che bello che è. Questo. Oppure... Questo. Ghiaccio per terra. Niente di che. Anche se pensavo andasse un po' qui là. Avanti il granchietto. Dai. E grazie. I granchi di ghiaccio sono stronzi. Cosa? Cosa? Ce ne sono due. Ce ne sono due. Vabbè cosa date? Niente? E allora me ne vado. Vado eh. Ah non li spavano. Ah già qua c'è il falo. C'è il falo. Cavolo. Io quasi quasi ci giro in tondo. Per farli un po' incazzare. Ma c'è anche un'altra parte qui. Fa infatti. Vedete che bello che è. Che bello. Eh. Paura in seguirmi. E sono tutte qua le armi. Non mi ricordo. Boh. Vabbè. Eh. Nemico standard più avanti. A ogni modo fuoco ho richiesto dopo. Io cosa sono? Cosa vuoi ghiaccio? O addirittura. No. Magia. 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 Ghiaccio. Magia. E che 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 casino però. Vabbè. Nemico standard più avanti. Ce l'ho fatta. Non troverai bestie avanti. In breve vittoria. Oh mio. E tutta roba incoraggiante qua. Però ce l'abbiamo fatta con la falce. Vedete che porta fortuna. Ah ah. Tu sei. Sei. Custode del campione. Oh mio dio. Oh. Di 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 di. Tattarata. Eh. Che schifo. Oh. Poca vita mi tolgono. Vero? Vero. Ma cosa fa? Ma cos'è tutta sta vita che va via? Beh. Forse perché. Forse. Levati dal castro. Non potrei mai competere con la fighezza di questa falce. Ma cos'è che scudino che scudino piccino 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 piccino. Mi fa quasi tenerezza. No. Io ti distruggerò con tutta la ro... E finisco la stamina. Ti distruggerò con tutta la... E finisce la stamina. Manguedo. Fammi fare la mossa figa. Ce l'ho. Ce l'ho. Ok. Non guardavo se avevo ancora PA. Oh. E non va. Non va. Se non così. Ma ritoglie relativamente... Non dico pochissimo. Però. Cos'è sta roba? Aspetta un secco... No. Non è... Non è... No. Non è quella di Artoria. S'ho detto che cazzo. E vabbè. Ecco qui è. Ecco qual'era questo cane qui. Il custode sta fermo. Porca... Si. Sono arrabbiato col cane. Ecco chi era sto cane qua. Il custode della... Della... Solo che non sono nel mio equipaggiamento... Dominante. E quindi si. Sono un po'... Va bene. Ma vabbè. Cos'è sta roba qua? Che ti arriva addosso. Uno il secondo sì. E l'altro pure. Non è proprio questo. Ma... Ci si avvicina. Non è la spada del sole. Ma è la spada da cavaliere nero. Più 5. Quindi. Quindi. Questa è forte. Fortina. Però. Non so se... Scudo ondulato. Perché mi raccomando. Velocità di recupero dell'energia. Over 9000. Bisogna. Sì sì. Sono tornato brutto. Pezzo di... Ah. Non protegge. Beh. Io. E io. Da bravo. Da bravo noob. Proteggeti. Ma ancora. Ma... Ma vedete che non mi toglie più un botto come prima. Il campione. Chi sarà il campione? Non è Artorias. Non è... Non sparate e cazzate come ho fatto io. Ma è togo mio Dio Artorias. Lo ritorniamo. Che bello. Lo ritorno in vita. Ma sto qua. Che sto acquisire Artorias. No. Mi rifiuto di crederci. O almeno protetto. Custode del campione. Tac. Lupo custode della tomba. Già. 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 Ci si avvicina. Allora. Mi state dicendo che magari... Sì ma sto qua. Ma sto qua usa... Sto qua è uscito da porta. Vedete che... Entra in un portale e esce dall'altro. Sì ma... Sì ma... Oh. Fortino eh. Porta il colpo. Nope. Nave ormai... Sì. Cosa diventa... Cosa ha fatto? Okiros. Ah va bene. Cos'è? Cos'è? Che sta succedendo? Cosa sta... Adesso... No adesso fa una bomba. Quasi. Però mi sono avvicinato. Mi sono avvicinato alla definizione di bomba. Aha. Ora va di qua. Ecco qui. Si sono un po' concentrato. Perché dopo quello che ho visto con... Con... Sorella Fried e gli altri due cavolo cazzoni. Ormai non so. Non so più in cosa credere da quello che ho visto. Non so perché sto... Allora è abbastanza cazzuto. Non ai livelli di Sif ma... Eh... Però sta velocità qui. Dai che va? Oh... Finiti? Finiti. Ossa del campione. Cuore impavido. Cuore impavido. L'ho già vista. Infatti mi sono detto... Ma perché io non l'ho trovata? Sarà dall'altra parte. Che si tratti di povera anima? No. Ha un aspetto familiare. E in momento di silenzio poi ora per bestia. Non... È... Lui. Ok. Avrei una Pimini Lorda... Cioè stavo pensando. E se fosse il capo dei guerriere di Farron magari? Quello lì che abbiamo ammazzato... Vi ricordate? Quello lì? Come si chiama? Eh... Sì. Quello l'ha. Guardini di Farron. Quello l'ha che diventa in stato di imbraccia. Magari è quello lì. Che ne sappiamo? Ma dai che ci sono? Controlliamo? Eh... Ecco qui. Spada dritta speciale. No? Beh... È bella l'idea. No. Questa spada la combinazione... Questa speciale combinazione di spada larga e scudo fu una brandita dal campione dello scontro tra non morti. Il campione combattì senza mai riposare fino a perdere il seno. Alla fine solo il suo scudo di ero e un lupo solitario rimase a rosso fianco. Assumi la sua posa e usa l'attacco normale per effettuare un affondo scudo alzato oppure l'attacco potente per scatenare un rugito leonino per colpire quello... Leonino? Ma che definizioni sono? Ah, ok. Va bene. Ma... Eh... Va bene. Allora le definizioni sono queste qua. Ok. Affondo. Rugì. Qualcosa. Allora... Allora... Non conosco nessuno che sia così. O almeno giocando al 2. Magari c'era nell'1 che ne so. Boh. Però mi... Posso dirlo. Mi sembra un... Artorias dei poveri. Così è. Ma proprio così. Mi sembra un Artorias dei poveri. Però anche i bonus caratteristiche non è che sono tutto sto... Però mi piace... Però bella l'idea dello scudino spadina speciali. Questo qua l'ho acceso. E neanche l'avevo acceso. Ovvio che dopo... Ah, non c'era. Non c'era prima. Ecco perché... Infatti mi dicevo... Ma scusa. Sarò mica così piena da lasciarlo andare. Però... Però mi sembra Artorias 2 dei poveri. E quindi... Detto questo... Sì, questo qua è l'episodio finale definitivo con boss segreto e zona segreta che io non ho trovato perché... Perché non controllo mai i ponti... E maledetto l'architetto che li ha fatti perché se... E... Come fa... Fate i ponti in modo che quando si spacchino diventino una scala. Va bene? Va bene. Eh... Sì. Non è brutto. Molto probabilmente lo userò in PvP perché non so quante persone siano pronte... A vedere un move, sapete, così veloce. Oppure... Oppure... Questo... O questo. Quindi... Aspettatevelo molto probabilmente. Continuate a seguire le serie... Le prossime serie... E quelle che già ci sono che molto probabilmente avrò già cominciato a riportarle. Esempio... Leggo già il futuro. Finirò God of War. No. 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 E spoiler. Sì. Va bene. Non è spoiler. Finirò. Finirò God of War. Poi porterò... Riporterò Fallout. Tutto. Quello che mi passa per la testa lo può... E soprattutto Undertake. E mi sembra che manchi un po'. No. Sì. Un po'. Vabbè. E... Ciao a tutti. Ah non fai perri questo qui. Allora è inutile. Sto scherzando. E... Ciao.